Che cosa ne pensi del progetto di Ferretti? Ottimo lavoro. Sono d'accordo con te. Mi fa piacere che i nostri computer finalmente lavorino bene. Non è proprio così. Cosa vuoi dire? Il marketing non usa più i nostri computer. E come hanno fatto tutto questo? L'hanno fatto con Macintosh, i computer che hanno comprato un mese fa. Tutto questo in un mese solo? Non proprio, Carlo. È bastata una settimana.